eccoci collegati buon pomeriggio scusate per qualche minuto di ritardo purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema tecnico e quindi siamo stati costretti a inviare anche un avviso a tutta l'audienza per avvisare di questo ritardo spero che lo abbiate letto tutti bene buon pomeriggio da me Pierpaolo Scandurra e in collegamento da oddio Marco da Londra ho un lapsus di collegamento da Londra c'è Marco Chetti ormai insomma conoscete questa presenza fissa a Leontech naturalmente quindi benvenuto Marco buon pomeriggio buongiorno a tutti voi e grazie mille di questa opportunità come sempre insomma siamo noi che ringraziamo te e ringraziamo voi anche perché comunque l'appuntamento webinar che ormai abbiamo iniziato da qualche mese sembra che stia riscuotendo particolare interesse tant'è vero lo vediamo oltre che dai numeri anche dalle richieste che ci arrivano poi durante il mese di parlare di alcuni certificati o comunque di approfondire alcune tematiche quindi devo dire che è diventato un appuntamento fisso al quale mi sembra che ci sia naturalmente una partecipazione anche sempre molto molto elevata allora eh oggi si rientriamo in questo primo appuntamento dopo dopo le ferie dopo la pausa estiva naturalmente non starò qui a raccontare cosa è successo in agosto perché chiunque è collegato immagino abbia in qualche modo già eh già visto ciò che è successo ad agosto come abbiamo recuperato in maniera importante attualmente almeno sui mercati siamo su livelli importanti livelli massimi e banche centrali che continuano a eh in qualche modo a tarsi battaglia a colpi di riduzioni di tassi o comunque interventi a favorire appunto il rilancio in qualche modo di dell'economia e quindi reazioni positive un po' su tutti i fronti ma volatilità ancora assolutamente sotto controllo ecco Marco quello che volevo chiederti prima di iniziare e vedere assieme qualche novità in particolare una delle ultime novità che avete lanciato poco prima della pausa estiva e quindi parleremo diffusamente di quella ma ci tengo a precisare anche che regaleremo durante questo appuntamento una potenziale eh opportunità di brevissimo termine quindi mi permetterò di dare una di lanciare una così una condivisione per un certificato a nostro avviso molto interessante ecco prima di far questo però ti chiederei come è ripartito all'attività in Leontech sui vostri certificati dopo la pausa estiva se durante il mese di agosto avete notato una forte flessione e in particolare dove si è concentrato l'interesse degli investitori in questo ultimo periodo sì ben volentieri allora nuovamente buongiorno a tutti e grazie di essere qui con noi eh per partecipare a questo webinar ehm ma agosto è stato eh comunque un mese molto interessante nel senso che ehm ovviamente le aspettative sono quelle di eh vedere gran parte dei volumi svanire eh per chiaramente ecco l'arrivo delle delle ferie estive eh devo dirvi che eh il 5 di agosto eh è stato uno dei giorni con i massimi volumi negli ultimi tre mesi ecco quindi questo dimostrare come anche a 35-36 gradi di temperatura in Italia ormai città che si svuotano eh continuava a esserci eh assoluto interesse da parte dei eh degli investitori sui nostri prodotti e e sulle opportunità di mercato che eh che si vengono a creare ehm quindi eh prime settimane di agosto direi ehm a dei livelli di assoluta normalità eh fino al ecco dove abbiamo chiaramente visto una una riduzione del più del 50% dei volumi è stata proprio sulle due settimane centrali quindi lì eh diciamo che eh anche noi abbiamo staccato il più possibile perché eh si vedevano comunque dei volumi interessanti come dico ecco il di sotto del 50% dei volumi standard però chiaramente un'attività ridotta ecco eh assolutamente normale eh insomma come era giusto che fosse poi invece ecco adesso si è ripartiti credo che tra l'altro sto vedendo dei volumi interessanti su diverse strutture al di là di quelle che sono ormai le strutture che insomma da da qualche mese ne abbiamo parlato diffusamente anche nei nostri appuntamenti le cosiddette low strike quindi quelle con eh quello che ormai abitualmente chiamiamo anche airpeg ecco eh quelle immagino che continuino ad attirare i volumi in maniera in maniera importante però mi sembra anche su su diverse strutture reverse quindi forse si è capita anche l'opportunità di poter utilizzare certificati reverse in ottica di copertura forse anche proprio per prepararsi all'estate assolutamente sì eh beh se non sbaglio eh poco prima dell'estate o durante l'estate abbiamo richiamato un inverse autocall su tesle twitter se non sbaglio aveva più di undici milioni e mezzo di di nozionale investito ecco quindi quindi insomma numeri importanti che guarda devo dirti Marco scusa se ti interrompo naturalmente però eh sai non è facile fare importanti volumi sui certificati reverse perché abitualmente si tende sempre ad investire al rialzo e quindi si utilizza eventualmente il reverse per piccole operazioni di copertura so a fare undici milioni di reverse vuol dire che il certificato forse anche per il tipo di titoli per il mercato americano è stato utilizzato non solo in ottica di copertura ma forse proprio per chi riteneva che forse il mercato fosse salito troppo eh almeno quello americano cercare di spuntare importanti coupon mensili da quelle strutture lì beh tesla è sicuramente un underlying interessantissimo su cui lavorare eh se andiamo a vedere il titolo eh nell'ultimo anno due anni sta comunque lavorando in un range abbastanza ampio ehm senza dubbio ma ehm ma comunque relativamente controllato ecco per cui ehm una strategia diciamo in termine puramente opzionale su un titolo del genere una strategia estremamente intelligente sarebbe cosa? Sarebbe quella di vendere call e put e di portare a casa questa volatilità comunque estremamente pronunciata del titolo la maniera migliore per chi non non può operare eh in shorting di opzioni è effettivamente quella di acquistare un prodotto autocall eh Phoenix che sia e acquistare un inverse autocall ecco in questo caso si riesce perfettamente a a lavorare su una specie di range e quindi di andare a monetizzare la volatilità sia sia sulle parte call e quindi vendendo il rialzo sia sulla parte put e vendendo il ribasso. Bene sempre interessanti i tuoi spunti Marco anche perché lo abbiamo già visto in passato e negli altri appuntamenti insomma offri anche delle interpretazioni non 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 abituali ecco quindi quindi ti ringrazio anche di queste considerazioni però guarda volevo scusami anche vorrevo cercare di recuperare qualche minuto siamo in debito con con gli ascoltatori e quindi non vorrei rubare tempo all'analisi dei prodotti anche perché ne abbiamo già selezionati un bel po' noi in più ce ne sono un paio che sono già arrivati da parte di alcuni nostri ascoltatori quindi io partirei subito naturalmente poi se ti lascio aggiungere dopo intanto volevo ricordare sul sito sul sito Leon Tech che tra l'altro da qualche settimana ormai è più facilmente raggiungibile dall'indirizzo certificati punto Leon Tech punto com quindi più facilmente intuibile come anche come indirizzo indirizzo mei e web ecco c'è vi ricordo in non page quindi nella prima pagina proprio la serie di nuove emissioni che corretto e qui in particolare vediamo insomma tutti gli ultimi autocollable e poi incontriamo qui nel centro della pagina questa questa novità che è proprio quella caratterizzata da questi floor autocollable di cui abbiamo avuto tra l'altro occasione noi del certificate journal e certificati derivati anche di scrivere in maniera un po' più approfondita però visto che questo è il primo webinar da quando sono stati lanciati io necessariamente ti devo insomma chiedere di chiarire il funzionamento di queste di queste nuove emissioni nel frattempo perché mi sono preparato ehm nel frattempo ne approfitto anche per ricordare che avete messo a disposizione il raggiungibile qui dalla sezione servizio avete messo a disposizione anche una buona formazione dei vostri prodotti e quindi è possibile ad esempio per le varie tipologie che siano gli express e gli inverse i low strike che ricordo equivalgono per chi ormai già li conosce così ai cosiddetti airbag è possibile trovare proprio la formazione cioè il funzionamento e quindi io accompagnerò le due parole proprio con quello che ho scaricato qui sui floor ad auto callable ovvero questo pdf che spiega nel dettaglio il funzionamento ok quindi marco a te la parola raccontaci tutto sì come sempre preparatissimo impeccabile ecco quindi è facilissimo fare questi eventi con te allora hai detto assolutamente tutto quindi consiglio gli investitori di proprio visitare il sito visitare questa questa parte di formativa che abbiamo messo a disposizione continueremo ad aggiornarla e inserire nuovo nuovo materiale nel momento in cui avremo avremo nuove opportunità il payout fondamentalmente è qualcosa di relativamente semplice nel senso che proprio da dall'inglese floor che cosa significa significa avere un una protezione fissa e quindi non più condizionale per cui nel momento in cui si ha un prodotto di questo tipo significa che ci sarà un un livello di protezione del capitale fissato inizialmente e assolutamente non condizionato quindi ci sarà comunque la presenza di una barriera ma alla rottura di questa barriera vedremo ci saranno alcuni casi quindi da un punto di vista grafico abbiamo provato a rappresentare un esempio ora ne vedremo poi alcuni sui sui prodotti realmente realmente lanciati come vedete sull'upside il classico esempio di cedole con memoria o dell'express autocall mentre invece sul downside che cosa succede una prima livello di protezione esattamente come tutti gli altri prodotti autocall con barriera poi vedete come scenda direttamente e in maniera perpendicolare rispetto all'asse delle della scisse e quello rappresenta effettivamente la parte digitale del livello barriera quindi facciamo un esempio numerico supponiamo di avere una barriera al meno 40 per cento fino a meno 40 non si perde nulla da meno 41 si perde 41 per cento uno a uno col titolo sottostante ma come vedete fino a un determinato livello quindi livello di protezione del capitale chiaramente da prodotto a prodotto questo livello di protezione del capitale è variabile quindi abbiamo provato a fornirvi alcune alcune possibilità in generale beh poi li vedremo in prima pagina abbiamo messo qualche prodotto al 50 60 e 70 per cento di protezione del capitale la cosa interessante di questa possibilità di prodotto di innovazione e i punti interessanti sono sono svariati dunque prima di tutto questo floor che cosa ci permette ci permette di evitare in primis il tail risk e il tail risk quindi che cosa significa sulla curva di distribuzione delle probabilità quei casi estremi che possono andare a verificarsi quindi di performance tragica del sottostante quindi a fronte di un rottura barriera scadenza è un sottostante a meno 70 meno 80 meno 90 per cento ecco in questo caso qui questa tipologia di prodotto come dire limita quell'impatto perché al di sotto della protezione del capitale non non c'è più un ulteriore performance negativa quindi un ulteriore impatto da parte del sottostante questo è fondamentalmente il concetto del floor d'autocall ora quindi in primis è un prodotto più conservativo rispetto a un prodotto a barriera europea a fronte della stessa barriera quindi supponiamo barriera europea al 50 per cento un prodotto e floor d'autocall con barriera europea al 50 per cento ma floor al 50 per cento ecco perdonami ti interrompo perché altrimenti andando avanti rischiamo di lasciare un equivoco perché giustamente Antonio guardando questo grafico che stiamo vedendo qui in questo esempio sembra dice lui che la cedola venga pagata solo per valori superiori allo strike iniziali viceversa correggimi se sbaglio dovrebbe essere pagata fino al livello di attivazione della cedola che tipicamente coincide con il livello più basso quindi ad esempio 60 per cento è corretto? È correttissimo non volevamo solamente in questo caso specifico visto che attorno a barriera c'è questa novità inserire anche la barriera cedola ecco la barriera cedola i meccanismi sono sempre gli stessi può esserci la barriera cedola al cento per cento quindi un classic autocall o può esserci la barriera a meno 30 meno 40 meno 50 quindi quello è assolutamente un una possibilità e poi andremo a vederla sui sui vari prodotti ecco non volevamo abbassare tutto al di sotto del della linea del c del dello zero iniziale proprio per non creare troppa complicazione però confermiamo che quindi la cedola continuerà ad essere pagata con quelle che sono le caratteristiche più o meno abituali ovvero una barriera al 60 al 50 più più quello che sia quindi non è necessario un valore superiore allo strike il che renderebbe chiaramente l'incasso più complicato insomma quindi tranquillizziamo che il rendimento continua ad essere con la struttura tipica quindi si continua a percepire sulla barriera la la novità importante e sostanziale proprio che rispetto al passato ovvero rispetto alle obbligazioni e rispetto alle scusate alle emissioni classiche dove c'è una barriera e al di sotto si rischia di perdere chiaramente anche in maniera considerevole anche dove c'è l'airbag mi aggancio a questa considerazione che mi è stata fatta poco fa da giovanni che diceva sembra quasi una variante di un airbag sicuramente l'intento è quello di ridurre le perdite e quindi di ammortizzare gli effetti molto negativi del sottostante però ricordiamo che gli airbag o low strike che dir si voglia purtroppo in caso di meno 90 portano in ogni caso a delle perdite anche molto molto importanti qui quantomeno blocchiamo al 50 per cento ad esempio la perdita in conto capitale perché c'è proprio una protezione incondizionata arrivati a quel livello giusto correttissimo quindi stiamo effettivamente beh il nostro obiettivo è quello di il più possibile avere dei clienti soddisfatti ecco quindi fare dei prodotti che diano rendimento e su quello penso che ci siamo visto che abbiamo un range di rendimenti direi da un 4 per cento a un 36 per cento sulla parte invece di protezione e dove diciamo ci concentriamo maggiormente per quale motivo perché sì le banche centrali continuano a darci una grandissima mano sì Trump continua a in tutti i modi a provare a sostenere il mercato siamo comunque su dei livelli almeno sul mercato americano particolarmente alti quindi se ecco noi proviamo sempre a pensare all'investitore e facendo dei prodotti magari a 2 3 4 5 anni ecco in alcuni casi provare a dare come dire più più protezione possibile infatti già da due anni fa i primi sul mercato a inserire gli inverse autocall beh in primi siamo partiti con barriere molto molto profonde meno 40 meno 50 poi la ripresa dei low strike airbag proprio per fare dei payout più conservativi poi l'inserimento del twin win autocall anche quello prodotto che di cui sono un grandissimo estimatore per cui a fronte di una performance negativa del sottostante mal di sopra della barriera quella performance negativa viene pagata in positivo esempio di prodotto che abbiamo visto ha rimborsato quest'anno un autocall un classico autocall su intese unicredit dopo un anno non è mai stato richiamato in precedenza dopo un anno è arrivato a scadenza intesa era la peggiore delle due stock a meno 22 e il prodotto ha pagato più 22 quindi ha rimborsato 1220 virgola qualcosa sì sì è un'ottima storia quella ottima storia no ma tra l'altro guarda Marco un'interiore possibilità per quale motivo perché se andiamo a vedere anche diciamo da un punto di vista regolamentare questi prodotti buona parte di questi prodotti sono comunque nella classificazione MIFI 2 sul KID in una fascia di rischio abbastanza alta siamo sempre tra il 4 e il 6 su una scala di 7 punti ora che cosa significa significa che alcuni clienti classificati retail non possono avere accesso a questo tipo di prodotti invece il floor d'autocall avendo una protezione incondizionata fondamentalmente riduce realmente il rischio di massima perdita e quindi sulla scala da 1 a 7 si si posiziona su rischio 3 o 4 quindi decisamente più interessante per promotori o private banker potrebbe rappresentare un uno strumento utile da finalmente riuscire a inserire su dei prodotti su dei profili più conservativi e di nuovo tornando a un discorso un pochino più generale per quale motivo stiamo vedendo sempre più interesse su questo tipo di strumento perché effettivamente il mercato obbligazionario poi dopo l'estate non ecco dubito sia in grado ulteriormente di dare soddisfazione agli investitori perché c'è stato un crollo ulteriore dei tassi di interesse specialmente sulla curva lungo un appiattimento dei degli spread come tutti sapete sul btp siamo ritornati a dei livelli assolutamente accettabili ma su tutto il resto molto di più quindi proviamo sempre anche a immedesimarci in chi deve andare da un cliente e provare a costruire un portafoglio che dia comunque un minimo di rendimento accettabile ecco quindi allora marco vediamo vediamo però nel dettaglio qualche qualche prodotto così diamo subito un po di anche di di spunti perché comunque sono arrivate un po di domande così vedo più grande anch'io perché sennò vedo lo schermo piccolo si sono arrivate un po di domande e ho intanto risposto io privatamente soprattutto perché continua ad esserci qualche dubbio sul meccanismo e quindi nel frattempo credo di aver insomma chiarito naturalmente se ci sono ancora dubbi scrivetemi e soprattutto così lo vediamo anche assieme volevo tra l'altro dire che anche se può sembrare poco insomma utile una protezione incondizionata al 50 per cento e non sono rare purtroppo quelle situazioni in cui il titolo poi magari finisce per perdere il 60 70 per cento per fortuna si contano sulle dita di una mano rispetto a quelli sono i titoli che si utilizzano però adesso dato che ne abbiamo già ricevuto più di una richiesta di parlarne perché ha fatto abbastanza rumore però marco avrai visto come un certificato su cui avevate costruito o meglio un titolo su cui avevate costruito un certificato con airbag e tra l'altro devo dire per fortuna ovvero sto parlando del titolo McDermott che nel due giorni fa ha perso a Wall Street il 65 per cento in una sola giornata oggi sta rimbalzando tra l'altro del 63 per cento quindi un titolo che sicuramente non non è poco volatile ma insomma sta vivendo una fase dove ci sono una serie di notizie contrastanti insomma qui è stata un po' siti a far far crollare il titolo a Wall Street per insomma una considerazione su quella che potrebbe essere la riserva di capitale o comunque la liquidità detto questo ecco possono accadere chiaramente quegli eventi come giustamente hai detto tu sulle code e però se poi incappi proprio in quello insomma questo certificato che avete emesso a questo titolo che in questo momento è evidentemente worst off prima della giornata di oggi era a meno 75 per cento dallo strike oggi ringraziando questo rimbalzo insomma la performanza è un po' meno dolorosa detto questo se fosse stato un certificato con il floor a quel punto anche un evento così drammatico finanziariamente parlando avrebbe inciso in maniera meno meno importante comunque questo era per dire che insomma non trascuriamo l'importanza di una protezione incondizionata perché poi ovviamente può essere sempre dietro l'angolo quello il cosiddetto cigno nero che può riguardare insomma alcune situazioni detto questo in realtà adesso ho aperto la scheda di uno dei nuovi floor e qui insomma mi auguro che non serva francamente perché abbiamo scelto tre blue chips assolutamente e ripeto e è tutta una questione di profilo di rischio del dell'investitore questo inserire un floor ora sulla prima pagina vediamo i quattro prodotti che abbiamo lanciato se fai solamente back sì 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 ah no ormai è andato di là quindi ecco qui perfetto quindi ecco come colonna autocall trigger di questi prodotti vedete come autocall trigger a 100 e poi qui vedete la nota protezione del capitale 60 protezione 50 protezione 70 e l'ultimo che non vedo se non sbaglio è di nuovo 50 ecco quindi lì sta magari ecco un secondo me un esempio molto interessante potrebbe essere questo il terzo cioè netflix spotify e twitter sono azioni come abbiamo visto volatili molto interessanti su cui su cui lavorare su cui abbiamo fatto parecchi prodotti però essendo azioni americane essendo tecnologiche avendo un determinato livello di volatilità particolarmente importante magari vari investitori dicono no non sono titoli che fanno per me perché sono effettivamente troppo rischiosi bene però chissà noi facciamo dei tentativi inserendo un una protezione del capitale del 70 per cento quindi con una massima perdita da parte dell'investitore del 30 per cento chissà che possa ritornare ad essere un prodotto interessante anche se i sottostanti sono sicuramente più dinamici rispetto a un enie nel unicredit ecco quindi certo giusto l'applicazione è molto variabile esattamente come invece sugli altri prodotti con flora almeno 50 meno 60 su titoli comunque italiani molto conosciuti e molto molto conservativi così così purtroppo i bancari ci hanno abituato non così bene però ecco magari ci sono profili di rischio così conservativi che avere un intesa unicredit lo rende ecco inaccettabile per determinati investitori probabilmente inserendo un floor vogliamo andare ecco a a dare l'opportunità a un profilo di rischio che magari non si era ancora affacciato allo strumento dei certificate per per paura e dargli un pochino più di sicurezza ecco allora guarda Marco dicevo questi sono i quattro allora si possono intanto vedere i rendimenti lo hai fatto già notare quindi i rendimenti potenziali si va dal 9 al 12 per cento evidentemente il 12 si trova sul sottostante insomma un po' più volatile anche se Netflix spot spotify e twitter sicuramente ce l'hanno però casino ghisciare in particolare anche nell'ultimo periodo ha avuto particolari oscillazioni quindi qui mettendo una protezione del capitale al 60 per cento quindi un pochino più bassa e rispetto al pre al quello americano dove invece abbiamo 70 avete portato il coupon fino al 12 per cento anno quindi stiamo parlando comunque di rendimenti elevati perché un'altra cosa che ci hanno chiesto è come la protezione incondizionata ha influito sui potenziali rendimenti cioè lo stesso certificato senza questa caratteristica di protezione incondizionata quanto eventualmente avrebbe pagato detto che ormai chi segue questi appuntamenti ormai avrà abbastanza anche dimestichezza ecco stiamo parlando sempre di rendimenti importanti cioè 9 per cento anno fiat intesa e unicredit barriera al 60 per cento europea ma soprattutto un'altra cosa che forse non non è da sottovalutare la durata cioè io vedo qui solamente due anni sul fiat intesa unicredit è corretto marco è un errore è corretto due anni cioè due anni è un tempo veramente breve anche per la strutturazione di questi prodotti e quindi veramente veramente interessante guarda devo dirti marco l'avevo già visti però volevo fartelo di persona e tra l'altro completo l'analisi di questo certificato partiamo dal rendimento quindi dalla parte bella dei certificati quindi la parte positiva la parte destra dei grafici di analisi scenario rendimento potenziale 0 75 al mese quindi abbiamo il 9 per cento anno e si incassa se i titoli vengono rilevati almeno al 60 per cento del livello iniziale nel caso specifico quindi non devono perdere più del 40 per cento e gli strike sono tra l'altro su livelli anche discretamente bassi rispetto a quelli degli ultimi anni in particolare per intesa e unicredit fiat anche sui 12 e 30 sui 12 e 43 è comunque basso intesa ha fatto strike su 2 0 3 quindi abbiamo già livelli comunque relativamente bassi in più 60 per cento per incassare il premio poi un altro aspetto da non sottovalutare il trigger autocallable che è decrescente quindi oggi noi abbiamo la prima data di osservazione al 12 dicembre dove per il rimborso anticipato è necessario che tutti siano al di sopra dei livelli iniziali ma già da gennaio il trigger scende al 95 e poi al sesto mese scende ulteriormente al 90 per poi passare all'85 per cento insomma sembra veramente un percorso tutto tutto facilitato per questi tre titoli perché da una parte c'è una barriera molto bassa per le cedole dall'altra abbiamo un trigger decrescente per il rimborso anticipato poi giustamente bisogna pensare anche al rischio e quindi in questo caso abbiamo il rischio che è contenuto al 60 per cento per tutto il capitale ma al dove ecco aiutami qui la la protezione incondizionata qui sulla scheda non la vediamo o sbaglio dovrebbe essere di nuovo sul term sheet sul term sheet perfetto quindi ricordiamo così come per l'effetto memoria così come per eventuali altre informazioni come può essere ad esempio il trick lo strike se quindi a volte dice dove come faccio a capire se è un airbag o meno ecco li possiamo trovare qui e quindi in questo caso ad esempio 50 per cento di protezione vedete 50 per cento protection level vuol dire che questa è la protezione incondizionata del capitale dopodiché memory coupon altra informazione fondamentale e tutto il resto lo abbiamo lo abbiamo già detto marco ti giro una domanda di massimo come si concilia una barriera del 60 per cento con una protezione del capitale del 70 per cento sì vediamo un po' eh vediamo un po' vediamo un po' che sarebbe praticamente eh questo questo su netflix spotify e twitter ecco allora come è giusto ottima domanda di massimo perché la domanda massimo bravo perché tutti gli altri hanno la barriera al 60 e la protezione o coincidente o più bassa qui invece addirittura abbiamo una protezione più alta della barriera corretto quindi dici dici andiamo a vedere i casi chiaramente di rottura barriera nel caso di eh perdita del meno 35 per cento del peggiore dei sottostanti siamo al di sopra della barriera e quindi incasseremo cento a in caso in cui invece ci sia un evento barriera scadenza quindi una una perdita del meno 45 per cento del sottostante a quel punto lì si andrebbe a ad avere una performance in caso di di prodotto standard di un meno 45 ma essendoci la protezione eh del 70 per cento del capitale si incasserà il 70 quindi e eh quindi ci sarà una perdita di 30 punti ma che non viene creata a fronte di una performance negativa di 30 punti bensì di 40 punti aspetta vedi allora intanto ti sono arrivati i complimenti da massimo eh anzi adesso io li giro a te però tu gira lì agli strutturatori non so se beh compli a note a massimo bel prodotto complimenti agli strutturatori quindi te la giro così come è arrivata e quindi 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 fino alla barriera del 60 protezione totale del capitale se andiamo sotto la barriera del 60 non si prende eh 60 ma si prende 70 quindi addirittura c'è un una protezione ulteriore beh ottimo l'unica cosa l'unica cosa lascerà scusami Pierpaolo si 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 lascerà un sacco di flessibilità e un sacco di divertimento nell'utilizzare magari sottostanti molto aggressivi ma magari con delle protezioni anche magari barriera europea almeno 50 o meno 40 ma con protezione del capitale all'ottanta o 85 per cento ecco eh beh sarebbe sarebbe mica male inizio continuiamo a aumentare la la protezione quindi di riduire la perdita massima ma grazie a dei sottostanti volatili a eventualmente trovare dei rendimenti ancora accettabile ecco poi a un certo momento il il sistema di pricing implode ecco cioè dopo un po' quando si va troppo alti a livello di protezione poi non funziona più perché perché chiaramente la probabilità di perdita è talmente bassa che eh non viene poi più remunerata in nessun modo da un punto di vista di cedola ecco no tra l'altro in questo periodo non ne parliamo e infatti ti volevo chiedere la quotazione in dollari del certificato perché questo è un aspetto che Vincenzo eh Vincenzo lo ha scritto ma naturalmente lo avevo già notato e quindi è tutto bello devo dirti ti volevo chiedere la quotazione in dollari è una condizione imprescindibile per arrivare a questo tipo di struttura con protezione più alta della barriera o pensi che si possa riuscire a farlo anche in euro beh sicuramente il dollaro aiuta eh ora eh un anno fa aiutava moltissimo perché i tassi di interesse comunque rispetto ai tassi euro e il differenziale era decisamente più alto ecco ora c'è comunque stato una un forte rallentamento del del riduzione ecco della curva di tassi swap a due anni anche sul dollaro quindi questo differenziale è minore però eh sicuramente si sente ecco eh si potrebbe tranquillamente fare una prova e vedere se guarda io ti dico naturalmente se lo chiedono e ripeto eh guarda sono io a chiedertelo per primo di fare una prova perché comunque ti dico naturalmente ehm anche quando si fanno prodotti con protezione se poi dopo comunque purtroppo continui ad avere rischio cambio è un qualcosa che allontana sempre un po' anche perché siamo comunque a uno e zero nove uno a dieci di cambio a due tre anni eh sai il rischio che magari non è in questo momento neanche nelle diciamo nelle aspettative per quello che è l'andamento dei dei tassi e delle varie banche centrali però si dovesse arrivare a un e trenta per farti un'ipotesi poi a quel punto ci saremmo mangiati un quindici per cento della protezione ecco invece provare a farli in euro ti dico sarei il primo a a a essere curioso a questo punto ehm a vedere come come vengono secondo me è possibile non vorrei dare dei numeri eh indicativi a caso ecco io direi eh spannometricamente che probabilmente si perderebbero dai ma forse tre punti però chissà forse quattro ecco di rendimento forse io direi dovessi fare una scommessa direi tre però dovrei provo a provo a apprezzarlo secondo me tre punti per non avere rischio cambio ce li giochiamo tutti nel senso che sono eh cioè anziché il nove o il dieci prendi sei sette punti però ce l'hai in euro con la protezione a settanta ti dico secondo me è un prodotto che spacca questo è una mia è una mia una mia considerazione allora guido e poi naturalmente naturalmente ricordo sempre vi devo lasciare il tempo per darvi quella quella segnalazione di cui vi parlavo prima che abbiamo individuato che molti già conoscono ma comunque allora quindi in questo caso superata la barriera del sessanta il capitale perde subito il trenta senza andare oltre quindi abbiamo detto se andiamo sotto il sessanta prendiamo il settanta e quindi non si va oltre mentre nei casi precedenti ovvero quegli altri si può perdere linearmente a partire da cinquanta fino a quaranta e sì quindi praticamente dove eh abbiamo dove abbiamo quindi andiamo ad esempio sull'altro ecco questo su fiat intesa abbiamo qui la barriera al sessanta la protezione a cinquanta vuol dire che se andiamo sotto la barriera il prezzo anche sul secondario potrebbe risentire della discesa e della protezione a cinquanta quindi effettivamente è più facile che si possa scendere anche sui cinquecentocinquanta cinquecento euro di quotazione sul secondario diversamente quello su a titoli americani che ha la protezione a settanta difficilmente lo vedremo anzi dico io credo sia quasi impossibile vederlo a cinque cinquanta sarebbe un sotto cento sotto la pari straordinario no? Certo. Ok quindi quindi sì guido è esattamente così quindi altra considerazione interessante il fatto che questa protezione non agisce solo a scadenza ma influenza anche il mark to market quindi il prezzo sul sul secondario. Vincenzo il cambio sui certificati in dollari è fissato il giorno della quotazione o è in continuo? Hai capito la domanda Marco? Scusami ehm Vincenzo ci chiede Vincenzo chiede se il cambio sui certificati in dollari è fissato il giorno della quotazione o è in continuo? Dunque ehm ma guarda allora no perché no infatti ho girato per vedere se avevi capito però secondo me mh molto più semplicemente Vincenzo tu compri oggi e chiaramente sei tu che fissi il cambio nel momento in cui compri quindi è la tua banca che ti converte i dollari in i euro in dollari nel momento in cui compri e quando andrai a rivendere farai esattamente la stessa operazione quindi è irrilevante dove si trovava il cambio quando è stato emesso il prodotto perché tanto è importante quello nel momento in cui compri tu è così giusto Marco? Sì corretto. Quindi dicendo il titolo in dollari i titoli sottostanti in dollari non c'è impatto non c'è impatto di cambio eh o come in tutti gli altri prodotti quanto cioè quando ci sono titoli americani ma il titolo è in euro è indifferente poi il movimento futuro del dell'euro dollaro eh sul prodotto perché gli strike sono quelli e contano solamente gli strike giustamente invece quando il cliente acquista un titolo in dollari è lì il suo rischio quindi quando lui cambia i dollari e va ad acquistare il titolo. Esatto quindi quindi Vincenzo devi più che altro pensare a quello che succederà da quando tu compri a quando tu puoi vai a rivendere. Marco faccio apro una parentesi poi se ci saranno altre domande torneremo e vedremo eventualmente di nuovo le quattro opportunità a cui abbiamo dedicato questo webinar però volevo far vedere ehm insomma questa questa queste potenziale last minute ecco chiamiamolo così e quindi è un certificato che abbiamo mh individuato già da qualche giorno ma in particolare oggi eh a nostro avviso può può rappresentare una interessante opportunità perché allora è un certificato Phoenix Memory vi ricordo naturalmente la dicitura è sempre appartenente alla famiglia grande famiglia degli express ma nel dettaglio è un Phoenix Memory quindi potenziali cedole periodiche e potenziale rimborso anticipato in questo caso abbiamo Fiat Chrysler Intesa San Paolo STM e Unicredit come sottostanti il certificato eh il ventitré quindi lunedì andrà in osservazione eccolo qui ventitré settembre duemila diciannove andrà in osservazione per il pagamento della sua cedola mensile dell'uno e zero quattro e la condizione per il pagamento è che tutti e quattro i titoli siano almeno al cinquanta per cento del livello iniziale nello stesso tempo sempre lunedì ci sarà anche l'osservazione per il rimborso anticipato e questo si verificherà se tutti e quattro i titoli saranno almeno al cento per cento del livello iniziale attualmente andiamo a vedere la situazione Fiat dagli undici e ottantacinque del livello di fixing iniziale a dodici e trenta quindi a più cinque per cento circa intesa San Paolo da due zero quattro e a due diciassette quindi anche qui un cinque per cento circa anche qualcosina in più STM ormai è andata da quattordici ottantadue siamo addirittura a diciassette ottantanove unicredit proprio in bilico perché siamo in questo momento a undici e quattordici rispetto alla strike iniziale di undici e quattordici qui vedo un undici e quindici ma ve lo dico in tempo reale siamo undici tredici e sessanta ora il certificato quindi lunedì potrebbe rimborsare mille più la cedola dell'uno e zero quattro quindi vuol dire mille dieci virgola quattro se unicredit mantenesse gli undici e quattordici quello che chiaramente a noi risulta interessante è il prezzo di quotazione in lettera che è di novecento novantadue e quarantasei stamattina lo abbiamo anche visto a novecento ottantasette quindi acquistandolo oggi ci sono due scenari da guardare il primo è quello chiaramente del rimborso anticipato già lunedì in chiusura scatterebbe con unicredit sopra strike e chiaramente anche tutti gli altri e a quel punto sarebbe un rendimento di circa due punti percentuali da qui a lunedì sera con unicredit ferma sugli undici e quattordici viceversa se unicredit chiudesse al di sotto intanto prendiamo la cedola dell'uno e zero quattro e poi andiamo avanti al mese successivo per l'osservazione eh nuovamente degli strike per le rimborsi anticipato da febbraio tra l'altro il trigger scende al 95 per cento quindi situazione potenzialmente interessante sia per il brevissimo quindi un last minute vero e proprio se dovesse poi non andare benissimo comunque certificato che può continuare e pagare bene anche le sue cedole che siamo oltre il 12 per cento del 12 per cento annuo quindi quindi estremamente interessante dal nostro punto di vista lo abbiamo voluto regalare anche qui durante questo webinar allora eh dunque Emanuele il prezzo per l'eventuale rimborso da guardare il prezzo di riferimento dei sottostanti quindi per calcolare i rimborsi si fa fede eh si fa riferimento sia al prezzo di chiusura o di riferimento diciamo che non esiste più il cosiddetto prezzo di riferimento quindi sì almeno per borsa italiana il prezzo ufficiale di chiusura quindi alle 17 e 40 dopo l'asta si fissano i prezzi di chiusura e sulla base di quelli si calcolano ehm gli importi di rimborso eh questo certificato allora se non dovesse rimborsare adesso e mai quindi non rimborsare mai prima della scadenza arriverebbe alla scadenza a febbraio 2024 quindi lungo durata comunque anche abbastanza lunga potenziale rimborso anticipato con trigger che scende vedete ad esempio nel 2022 il trigger autocollo è al 70 per cento quindi rimborserebbe anche a fronte di un meno 30 e barriera di protezione del capitale al 50 per cento quindi comunque un bel prodotto che potrebbe dare soddisfazioni già in due giorni se non le dovesse dare è un ottimo prodotto anche per uso per cedolare cioè continuare a prendere cedole Marco io te la devo per forza fare perché comunque il bello dei nostri webinar è che la gente giustamente fa delle domande ecco una domanda un po' però però la premessa una domanda magari un po' scomoda come mai su alcuni strumenti lo spread è aumentato ad esempio in Porta di Gallare su un certificato è arrivato al 3 per cento adesso io ho anche il codice Aisin quindi intanto lo vado a vedere così magari lo capiamo assieme quindi in particolare allora CH allora questo natural scusate facciamo vedere il codice Aisin di questo last minute CH 044 22 56 506 questo è il codice Aisin di cui tra l'altro oltre ad averlo visto noi insomma anche insomma la ricca comunità di un forum su investire oggi l'avevano già ad occhiato quindi devo dire che sono tutti molto molto attenti allora CH 04 allora Pietro dice peccato che adesso si acquista un mille tre ecco bravissimo Pietro ti ringrazio dell'osservazione attenzione perché quei mille tre non è il market maker il market maker in questo momento offrirebbe ancora 992 solo che oggi ha scambiato moltissimo e quindi in questo momento è stata esaurita la pdn cioè la proposta di negoziazione quindi attenzione a comprare oltre quello che sarebbe il prezzo giusto date sempre un'occhiata al prezzo denaro lettera sul sito dell'emittente perché comunque vi aiuta anche a non fare a non spendere più del dovuto allora CH 047 8 3 8 8 4 8 8 vediamolo un po' Marco di cosa si tratta e se è vero cioè non metto in dubbio naturalmente quello che dice Antonio però sì qui vedo ah beh tassi di cambio tassi di cambio eh sì qui allora siamo sui sull'FX giusto? Sì 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 esattamente eh purtroppo sull'FX diventa sempre più complesso e sempre più eh problematico da parte dei nostri trader andare a lavorare e e riuscire a come dire a coprire i rischi eh che poi dobbiamo gestire ehm per 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 la copertura ecco cedolari di di questi prodotti quindi eh beh sul TRY abbiamo avuto un sacco di problemi però in generale purtroppo i trader sui prodotti FX ci hanno chiesto assolutamente di dover allargare eh a fronte invece di eh dire ok non l'offriamo più e quindi mettiamo il titolo solamente in bid e allora eh abbiamo preferito allargare eh il il bid offer ma continuare comunque a dare la possibilità eh agli investitori di ricevere un prezzo da entrambi i lati ecco che ci sembra molto più trasparente. Ok. Perfano d'accordo? Allora se posso fare un breve eh come dire riassunto sui bid offer ehm in generale noi quello che proviamo a fare è sempre mantenere bid offer all'un per cento ehm sulle azioni americane facciamo fatica la mattina quando il mercato americano è chiuso e quindi a volte troverete o pochissima size per l'acquisto quindi 50 pezzi in offer eh o un un bid offer allargato proprio perché eh beh chiaramente noi ci dobbiamo tutelare quindi eh ci sono come sempre delle delle opportunità di arbitraggio che si vengono a creare in determinate situazioni esempio titolo che soffriva in preapertura eh o esce una notizia nell'overnight e ci si aspetta un balzo del venti per cento del titolo per qualsiasi motivo il sistema non l'ha ancora eh contabilizzato questo potenziale movimento quindi il nostro prezzo fondamentalmente è sbagliato e quindi eh gli investitori possono venire colpirci quindi quello sui titoli allora io sono un grande stimatore dei prodotti su titoli americani perché perché comunque gli investitori devono imparare a diversificare i loro rischi e non sempre concentrare i loro portafogli su intesa unicredit eni enel e e le solite azioni ecco però dall'altra parte ehm c'è un tecnicismo irrisolvibile nel senso sarà così per sempre quindi la mattina daremo meno liquidità nelle due tre ore di accavallamento delle quotazioni sia del mercato europeo che di quello americano sarà lì il momento in cui ci sarà più liquidità eh ristringeremo i bid offer e riaumenteremo le le quantità in bid e in offer quindi questo è lo standard sugli effects è complesso quindi alcuni purtroppo se li vedete allargati non è veramente per penalizzare noi sales venditori eh siamo qui siamo dalla parte del assolutamente del degli investitori eh purtroppo abbiamo una gestione rischi e quando la gestione rischi le condizioni di mercato cambiano ci chiedono di eh di proteggere anche la firm da da determinate potenziali perdite ecco e quindi dobbiamo muoverci in questo modo però è assolutamente inusuale e su tutti gli underlying liquidi lo evitiamo il più possibile bene bene quindi eh che voglio sottolineare diceva correttamente l'investitore precedente eh anche se abbiamo in pagina un prezzo c'è un prezzo diverso massimo sul mercato decisamente più alto allora è una è una situazione che purtroppo si verifica e vi spiego che cosa succede noi abbiamo delle quantità limite vedete su questo in sovraimpressione sotto i 1026 abbiamo 250 pezzi in offer e 250 pezzi in bid eh di nuovo noi se stiamo spingendo per aumentarli ulteriormente prima erano a 100 quindi già abbiamo più che raddoppiato ma io vorrei continuare ad aumentarli che cosa succede nel momento in cui passano i 250 pezzi noi automaticamente per qualche minuto usciamo dai book perché perché dobbiamo verificare la correttezza dei prezzi da parte del eh dei nostri trader e eh a quel punto possiamo poi ricaricare nuovamente una size da 250 in questi minuti quindi noi non siamo a mercato che cosa succede ci sono dei furbetti eh vabbè è d'altronde il mercato è fatto così che cosa dicono che offrono il titolo a uno o due punti superiori al nostro ultimo prezzo certo che poi tra l'altro Marco posso ricordare che questa è una cosa che può accadere esclusivamente su Euro TLX perché sul SEDEX questo lo facciamo a livello così di didattica e per ricordare sul SEDEX in assenza dello specialista lo strumento verrebbe congelato dagli scambi non si potrebbe neanche trattare su Euro TLX questa regola ancora non c'è e quindi come stavi appunto raccontando nel momento in cui termina la quantità che avete a disposizione si crea la situazione di eh praticamente potenziale vendita o acquisto a prezzi anche un po' fuori tra l'altro nel frattempo lo stiamo io il book qui in tempo reale qualcuno ha riuscito a comprare e ecco vedete questi adesso io non so questo 993 68 corrisponde esattamente a quello che è il vostro il vostro ask anche sul sul sito quindi forse è diminuita un po' la quantità perché oggi ne avete venduti per ora 743 quindi un numero comunque importante di certificati quasi un milione solamente su questo quindi al momento ricarichiamo però gli slot da 250 e al momento sono sono gli slot che che ci vengono congelati quindi ecco fate attenzione verificate non sono strumenti da trading quindi c'è tutto il tempo e tutta la tranquillità di studiare il prodotto analizzarlo e a quel punto lì ecco su su finecco è una piattaforma che io conosco utilizzavo si può tranquillamente aprire il book e andare a vedere il book come composto e fate attenzione non mettete ordini a mercato senza senza verificare ed evitate ecco di regalare un paio di punti percentuali a diciamo questi furbetti nel mercato che chapeau fanno il loro mestiere quindi quando trovano opportunità di arbitraggio si inseriscono ecco è già è già è così allora marco prima di lasciarci al di là del fatto che poi ti vorrei lasciare ancora un paio di minuti per ricapitolare magari anche rivedere se vuoi qualche di dei dei floor autocall ball volevo dare spazio ad un'altra segnalazione che ci è arrivata in questo caso da sergio quindi quasi in inizio trasmissione e riguarda un certificato che ha come sottostanti titoli enel ed eni ed è un altro phoenix memory perdonate un altro phoenix memory classico quindi senza nessun tipo di opzione aggiuntiva che sia low strike o altro marco probabilmente non so se è già in possesso comunque ci chiedeva un parere io ne approfitto perché nel frattempo l'ho visto mi sembra un ottimo prodotto tra l'altro su enel come penso sia abbastanza evidente lo strike è ormai superato da parecchio perché enel è sui massimi continua a correre quindi livello di fixing iniziale 5 76 oggi 6 e 75 su eni invece siamo anche qui in equilibrio rispetto allo strike vi ricordo tra l'altro che lunedì eni staccherà il dividendo attenzione quindi a tutti coloro che hanno certificati su eni o eni in portafoglio lunedì c'è lo stacco del dividendo e quindi quello che oggi vediamo come 14 e 57 diventerà circa 14 e 17 come quotazione quindi si va al di sotto dello strike iniziale il certificato paga cedole mensili dello 0 75 quindi siamo al 9 per cento anno però solo su due titoli tra l'altro anche due titoli molto insomma solidi o comunque anche meno volatili rispetto ad altri a cui siamo abituati a guardare e la prima data di osservazione utile per il rimborsa anticipato è novembre 22 novembre 2019 livello trigger 100% quindi se dovesse rimborsare a novembre pagherebbe a partire dall'osservazione di lunedì tre coupon dello 0 75 quindi due punti e 25 e quindi l'acquisto ai prezzi attuali di millenove darebbe comunque un rendimento di un punto e mezzo o poco meno su novembre insomma però però confidiamo nel fatto che non rimborsi perché poi è questa la la insomma a volte anche un po' il paradosso no c'è l'opzione autocall viene resa anche più semplice però quando trovi un bel prodotto come può essere anche questo forse è anche meglio che non rimborsi solamente ed è Eni ed Enel coupon 0 75 interessante quindi ringraziamo Sergio della condivisione CH 0 47 8 3 8 6 2 8 4 Roberto ci chiede come mai sul sito vedo ad esempio 200 pezzi in offer mentre su Fineco ne compaiono 20 credo che Marco la diciamo la relazione tra il book in tempo reale e il sito purtroppo non sia così immediata cioè non riuscite a fare sono d'accordo e sicuramente ecco il book di Fineco è quello che fa fede non c'è dubbio magari in tre minuti ci hanno colpito e il sito se non sbaglio aggiornato e vedete questo è un altro certificato questo sì infatti non è uno strumento diciamo verificate però o quando volete senza nessun problema come vedete sul sito contattaci scriveteci siamo a vostra disposizione ci scrivete dicendo vorrei acquistare 20 pezzi di quel certificato volevo verificare il pricing che fosse corretto vedo il book a questo livello posso inserirmi a questo prezzo limitato ecco noi siamo a completa disposizione quindi non esitate mai a chiamarci o a scriverci o altrettanto come prima Pierpaolo benissimo un certificato molto interessante ci piace molto ma magari in dollari riusciamo a farlo in euro scrivetecelo e noi noi se possiamo lo lanciamo ben volentieri ecco quindi vedete esattamente questa email info italy at leontech.com c'è il nostro telefono diretto allora al momento siamo in Inghilterra sono sei mesi che stiamo lavorando per avere un numero verde non per tecnicità ma per approvazioni interne dovremmo essere agli sgoccioli penso nel giro di due settimane massimo lo avremo quindi potrete anche chiamarci direttamente a zero costo se no ci inviate una mail con il vostro numero di telefono e voi noi vi richiamiamo io ci sono messi quattro per avere la dsl a casa quindi va bene non i tempi sono sono molto dilatati sotto questo punto di vista va bene allora dov'è possibile rivedere il webinar salvatore sul nostro canale youtube c'è la academy sulle sezioni e quindi è possibile rivedere il webinar anche i precedenti che tra l'altro devo dire questo perché appunto per chi già ha seguito potrà testimoniare i webinar fatti con marco ma anche con anna quindi in generale proprio con le on tech hanno anche queste caratteristiche di essere spesso non solamente una presentazione dei prodotti ma anche proprio un ottimo momento di di condivisione di di spunti anche didattici formativi oggi marco ci ha spiegato il perché a volte si allarga lo spread su alcuni prodotti come funziona il controllo del rischio quindi ecco anche un webinar di aprile potrebbe rappresentare comunque una insomma un'oretta piacevole spero da da riascoltare per per poter insomma imparare qualcosa che magari noi stessi non conosciamo e che veniamo a sapere proprio dai protagonisti quindi da dall'emittente e guarda siamo in chiusura devo dire che sono ancora tutti collegati quindi praticamente insomma non so se marco vuoi aggiungere qualcosa ma naturalmente se posso e mi leggo all'ultimo webinar che avevamo fatto con i consigli dal pubblico di ottimizzazione del sito ricordi come allora sullo strike al momento sia difficile individuarlo quindi si debba aprire il term sheet nel giro di una due settimane sarà invece inserito proprio nella scheda prodotto quando si clicca il titolo il livello strike e quindi dovrebbe entrare anche nei filtri quindi andando su prodotti in alto andando prodotti perfetto dove c'è questo menu di selezione dovremmo avere poi finalmente un menu che dirà strike così che andranno automaticamente a selezionare ecco se si farà strike 50 60 70 si prenderanno praticamente tutti i lo strike che abbiamo a disposizione e non solamente quelli diciamo che poi noi manualmente invece inserite in questa nella nella page esatto quindi questo prima modifica fatta barriere invece ci sarà un altro filtro barriere che cosa servirà principalmente a a trovare gli inverse autocall perché come giustamente la barriera ribasso e per i classici certificati quelli reverse o inverse hanno la barriera a 130 140 quindi potremo selezionare inferiore o superiore quindi una cosa del genere esattamente quindi verranno inseriti purtroppo dobbiamo trovare il modo diciamo matematico per andare a selezionare i prodotti ecco come sempre dobbiamo abituarci ecco però cioè dobbiamo trovare delle soluzioni a volte non è così semplice invece inserire la selezione inverse stiamo lavorando comunque sul sito per migliorare sempre l'esperienza l'esperienza del cliente e dell'investitore anche la parte memory verrà inserita sulla sulla descrizione quindi sulla scheda prodotto e non più solamente sul sul term sheet e poi ultimo ultima modifica che stiamo implementando è quella di avere se si vogliono vedere la totalità dei prodotti ecco se non sbaglio adesso adesso li abbiamo tutti no se vai giù senza selezionare nulla vai giù dovresti esatto questi sono tutti che sono 20 pagine di prodotti un altro filtro molto interessante che non abbiamo e che volevamo assolutamente avere era quello del rendimento dei prodotti perché si benissimo ma se io cerco prodotti per esempio dal 4 al 7 per cento oggigiorno faccio veramente molta fatica quindi rispetto al prezzo attuale allora bravissimo metteremo una colonna sia del rendimento potenziale quindi cedolare e un'altra colonna decisamente più complicata sul rendimento potenziale quindi sommatoria di prodotto scontato diciamo quindi del mark to market più le cedole e quindi la troverete qui nell'elenco e potrete andare ad ordinarla e poi scorrendo pagina per pagina andare a trovare ordinati per rendimento i vari prodotti i vari prodotti da poi selezionare quindi non sarà un vero e proprio filtro però potranno essere ordinati in in ordine di rendimento perfetto marco quali prossimi appuntamenti oltre ai webinar avete in programma qualcosa dunque saremo a roma all'investing roma tra pochi giorni il 2 di ottobre se non sbaglio 4 4 4 ottobre scusatemi e ci saranno pietro e agnello allo stand quindi vi invito a passare ben volentieri siamo a disposizione saremo lì tutta la giornata quindi per chi è nella zona assolutamente e poi saremo anche a consultic invece a fine ottobre a verona perfetto dai quindi no no ci tenevo a ricordare questi appuntamenti perché è un'occasione di confronto quindi 4 ottobre naturalmente ci sarò anche io quindi sarà un'occasione per parlare come sempre di certificati di conoscerci eventualmente vi ricordo di insomma di approfittare di questa giornata in questa bellissima manifestazione organizzata ormai da qualche anno dall'amico pietro di lorenzo e poi sì l'evento consultic fi only a verona è anche quello per i consulenti in particolare consulenti indipendenti quindi l'opportunità di poter di poterci vedere anche lì va bene marco io ti saluto ti ringrazio naturalmente per perché sei stato come sempre estremamente disponibile e disposto a tutte le domande e quindi quindi assolutamente ti ringrazio e beh niente a questo punto ci diamo appuntamento al prossimo webinar e ricordiamo naturalmente per qualsiasi tipo di richiesta di curiosità di contattare direttamente voi all'indirizzo email eh che è pubblicato qui nella home page nella sezione contattaci e poi insomma per chi fosse arrivato tardi o fosse dovuto andare via un po' prima visto che ci siamo presi qualche minuto in più eh la possibilità di rivedere il webinar in un secondo momento sulla sezione chat lab academy marco è sempre un piacere altrettanto grazie a tutti un saluto al pubblico un saluto a tutti buona serata arrivederci grazie a tutti